HAKUNA MADATA RAGAZI Me la voglio fare diciamo che è il nostro portafortuna dai mettiamolo così intanto questi no facciamo le cose fatte bene e vorrei migliorare un po' casa perché mi sono arrivate delle giustissime precisazioni cioè nel senso ma perché se ti dimentichi sempre di aprire e chiudere le porte non è meglio che ti ci metti i bottoni o comunque le leve ragazzi si avete perfettamente ragione avete perfettamente ragione più di questo non vi posso dire allora eccola qua questa la chiameremo da oggi la pecorella tab d'accordo quindi abbiamo la pecorella tab e tra l'altro io vorrei farmi anche i polletti se fosse per quello il televisore non a tutti è piaciuto a me è piaciuto e me lo lascio qua perché a me piace tantissimo il televisore anche se mi avete detto di metterci il quadro sopra che al limite sembra che è acceso e tutto quanto no ma sinceramente poi spendo corrente quindi non mi va non mi va di farlo allora facciamo questi sono i bottoni e queste sono le pedane a pressione quindi me ne metto una me ne metto due d'accordo quindi facciamo così tanto una una porta ci abbasta una porta ci abbasta e facciamo con la tra l'altro no il bottone io non lo metterei cioè chi se ne frega il bottone fuori io non lo metterei sono sincero che lo mettiamo a fare il bottone non credo che ci importi più di tanto no quindi ci prendiamo l'altro ferro mamma mia ragazzi quanto ferro ma porca miseria ottimo è vero c'abbiamo il la spilaps strits c'abbiamo quelli c'abbiamo quelli là ok quindi c'abbiamo sta robetta e fin qua ci siamo allora io son sincero con voi io son sincero con voi tra l'altro io toglierei sta roba che non ci serve assolutamente niente mi avete detto di tenermi escalibur per quando veramente ci servirà e vi do retta vi do assolutamente retta assolutamente retta tolgo l'inchiostro perché mi avete detto pure ciccio datti una sistemata all'inventario che giustamente non si capisce un'emerita mazza e io vi do ragioni quindi ci mettiamo questo qua questo non ci serve allora 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 innanzitutto vedendo il nostro inventario sinceramente ci manca la legna voi dite cazzo stai ogni giorno a raccogliere legna lo so ma se poi noi la usiamo è normale che poi la dobbiamo raccogliere quindi qua non vi preoccupate era esploso un creeper ha fatto un botto devastante esplodendo là ci stanno sempre i cavalli io voglio una fottuta sella io voglio una fottuta sella va bene io voglio la mia fottuta sella perché mi voglio fare la stalla mi voglio fare la stalla perché tanto i cavalli non credo che si possano muovere senza la sella porca miseria tra l'altro è notte ma perché sto qua via via ciccio via go power range go let's go let's go power range go allora adesso che mi viene un attimo una cosa in mente vedete così si chiude perfetto così si chiude allora noi facciamo così intanto ci facciamo ci trasformiamo questo in legno e ci siamo torniamo allora oggi che cosa vorrei fare vorrei dar da mangiare agli animali perché e vi dico il perché se noi diamo da mangiare a agli animali riusciamo anche a prepararci per la nuova spedizione che farà che faremo entro breve per andare in circa di una nuova grotta sinceramente allora qui però mi servono le carote ma vedete qua stavo facendo un piccolo errore quindi mi devo prendere le carote che sono queste qua e me le piazzo al posto del piccone per il momento allora maianini cari maianini voi dite che bello è ritornato a darci da mangiare sì d'accordo però allora con calma con calma io li do tu che fai non vuoi fare zup zup vieni qua dobbiamo raccogliere forse le altre carote ho questa impressione che dobbiamo raccogliere le altre carote vieni vieni qua vieni qua vieni qua tutti avete mangiato guardate che poi ripasso dopo eh cioè poi non vi inventate niente non mi dite però eh però me non mi hai dato da mangiare mangiare tac non mi hai dato da mangiare tac e quindi io non faccio zumbe zumbe eh questo è il maialino eh che lo dice non sono io quindi andiamo qua e qui abbiamo fatto tra l'altro qua dovremmo raccogliere il grano perché è anche arrivato il momento di raccogliere il grano guardate quanto è bella la pecula della rosa e darei da mangiare se riprendono il cibo alle mucche se così gli facciamo fare zuppete 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 che fa prima e qui abbiamo fatto perfetto le pecore fanno un casino immondo però eh cioè pecore adesso noi a cattiveria siete bellissime e tutto quanto però fate veramente un gran casino allora io sinceramente dato che dobbiamo prenderli perché se vi ricordate dobbiamo anche andare con i villici dobbiamo andare di nuovo dai villici prima o poi anche perché io sono preoccupato aaa fermi tutti fermi tutti fermi tutti mi sono ricordato e adesso e adesso io voglio un sacco di mi piace perché signori dopo escalibur 3.0 sta ritornando lui l'uomo d'acciaio l'uomo che tutti vogliono l'uomo non lo so l'uomo bionico l'uomo più bionico bionico del bionico signori lo avete visto anche dal titolo forse stiamo parlando di lui quindi quanto era uno due zucca e poi gli devo fare anche le braccia se non mi ricordo male quindi dovrebbe essere così vediamo eh vediamo signori e me lo tengo dentro casa però me lo tengo dentro casa quindi dove sono le zucche andiamoci a prendere le zucche no qui non ci sono qui non ci sono allora stanno qua per forza ecco per esempio stanno qua quindi voglio una zucca una la voglio una zucca voglio questo ce lo mettiamo qua vediamo eh vediamo dovrebbe essere così se non mi ricordo male attenzione è tornato è tornato ciccio golem ma buongiorno carissimo mamma mia quanto sei bello ciao ciao ciccio golem come va saluta tutti i nostri nuovi amici bellissimo però ho paura che con le tè surpreit lui se ne vada adesso non lo so eh mi raccomando non mi fare la cacca in giro perché mi distruggi casa praticamente io te lo dico mi distruggi casa quindi questi ce li mettiamo qua questi ce li mettiamo qua questi sono i semini e adesso andiamo allora ciccio golem lei mi raccomando mi facci la guardia mi facci la guardia perché se no non va eh se no io lo dico io lo dico poi litighiamo no perché chi si ricorda che nell'altra serie diciamo che ipoteticamente siamo morti per colpa di ciccio golem anche se sapete sai il ciccio golem era giovane quindi non sapeva quello che aveva fatto insomma se l'era presa con ciccio neve sapete la celosia porta queste cose e niente ci sono andato a finire mezzo io in poche parole e va bene così quindi prendiamoci il nostro bel granetto il nostro bel granetto ma che bello ma che bello così andiamo dai noi ci rubiamo le gemmette sì ma pecorelle veramente veramente pecorelle veramente tra l'altro ho visto e vi è piaciuta anche la canzone dell'uovo che tra l'altro non vi consiglio di fare perché non funziona tranquillamente proprio avete visto che non funziona quindi noi ci mettiamo questa facciamo questa qui facciamo questa qua questo lo mettiamo qui perfetto 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 che poi tra l'altro per chi se lo sta chiedendo perché ho chiamato quella pecorella deb perché è praticamente una scommessa con una mia amica mi ha detto nanto non ci credo che chiami la mia pecorella come deb deb non ci credo e l'ho chiamata deb tra l'altro quindi andiamocene per di qua ciccio golem ah ma ciccio golem piace la tv ciccio golem è innamorato le piace? pronto le piace? ragazzi è innamorato della televisione vedete che allora funziona? le piace? lei è bellissimo se lo faccia dire veramente lei è un uomo d'acciaio bellissimo un sorriso? pronto? no e gli girano ha detto che gli girano e ha detto di lasciarlo in pace va bene non andremo di certo contro un ciccio golem e qui ci abbiamo tutto e qui ci abbiamo tutto questi ci li possiamo anche togliere perché non ci servono sinceramente dobbiamo portarci altro dietro? non credo eh qui però aspetta ecco qual è il problema ecco qual è il problema che stiamo finendo le cotolette stiamo finendo le cotolette quindi è arrivato il momento eh cari miei io vi ho fatto fazzumpe zuppe adesso mi dovete dare qualche cotoletta però bravo bravo facciamo spazio ai giovani vieni vieni perfetto ce ne abbiamo dieci mi abbastano dieci no non mi dire che sei uscito piccolo vai dentro con quella testolina vai perfetto andiamo a cucinare le nostre ah mi devo ricordare che vediamo lui penso che non esca lui eh PS ne va incredibilmente quindi mettiamo qua però sinceramente se facciamo così dato che ci abbiamo due forni non credo che nessuno si offenda ciccio golem salve vuole una bistecchina eh però lei se ne va via così non vuole una bistecchina zitte voi e che cos'è ciccio golem è una figata assurda veramente allora io direi che questa volta sinceramente siamo pronti ma mi dite una cosa come si fanno le frecce non mi ricordo che se ci voleva la selce non la polvere da sparo ora vediamo un po' mi sembra che ci voleva la selce se non dico cavolate ma questo è il diamante è vero ci voleva la selce esatto questa il filo e la piuma quindi dovremmo andare anche a caccia di zombie per dire la verità perché non ci abbiamo piume o barra polli ma non abbiamo polli cioè nel senso ci servirebbero un po' di queste cose ma sapete un po' siamo stati un po' sfortunati con i polli sinceramente siamo stati un po' sfortunati e qui ci abbiamo tutto allora un'altra cosa che io toglierei dall'inventario se dobbiamo andare in miniera sono le cesoie non ci facciamo assolutamente nulla il carbone ci può servire assolutamente per fare le torce che tra l'altro a questo punto io procederei a farle quindi ce ne abbiamo 55 e va benissimo la seconda spada ce l'ho anche se diciamo che è già mezza rotta il piccone ce l'ho ci dobbiamo fare ci dobbiamo fare una pala ci dobbiamo fare una pala e sinceramente non credo che ci serva altro non credo che ci serva altro per il momento il secchio di emergenza l'emergenzia ce l'abbiamo quindi che cosa facciamo andiamoci a prendere intanto da vieni qua da carolina dalla nostra mucca calorina carolina che tra l'altro è una tra quelle non mi dite qual è non lo so perché purtroppo non si possono dare i colori oh grazie del latte chicca questo è granarolo alta qualità mi raccomando e tra l'altro non vedo io anzi sai che faccio sai che faccio mi è venuta un'idea mi è venuta un'idea che però mi sa che farò vediamo se ce li ho ce li ho ce li ho non vi dico niente non vi dico niente non vi dico niente ragazzi allora la prossima puntata sicuramente partiremo per una nuova avventura cambieremo credo che cambieremo grotta penso che andremo a vi ricordate che abbiamo una grotta là mi sembra ricordatemi dove abbiamo le grotte perché non me lo ricordo andremo comunque a caccia di un'altra grotta insieme ragazzi il video di oggi può finire qui se il video vi è piaciuto pollicione in su commentate condividete al prossimo appuntamento voi vi posso giocare con 89 ciao 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 ciao